Appuntamento per il primo dicembre in Palazzo Vecchio a Firenze per conoscere i prodotti di 18 delle 28 aziende che costituiscono il consorzio Chianti Colli Fiorentini. Una degustazione di vini aperta al pubblico dalle 14 alle 18 in Sala d'Arme. È il primo expo del consorzio ed ha il patrocinio di 16 comuni. Sarà una degustazione che nella prima parte è aperta a dei giornalisti stranieri e anche qualche giornalista italiano e poi dalle 2 successivamente abbiamo invece aperto a tutto il pubblico fino alla sera alle 8. È un expo per far conoscere i vostri prodotti. Abbiamo anche dei numeri per quanto riguarda l'import e l'export? Allora, noi il Chianti Colli Fiorentini è prodotto circa 900.000 bottiglie l'anno e di queste una metà è al mercato estero e l'interno insomma corrisponde per circa il 50%. E la particolarità di questi prodotti è che sono legati a una zona. Le caratteristiche? La zona del Chianti Colli Fiorentini produce dei vini normalmente molto fruttati. È un Chianti fresco che così si accompagna con il più classico cucinario toscano.